salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi finalmente è arrivato il giorno di fare il test di lui il sensore per il rilevamento degli ostacoli dell sg 906 max questo drone che l'evoluzione della versione 906 pro 2 praticamente è rimasto lo stesso drone a punto di vista qualitativo della fotocamera delle batterie quindi è lo stesso drone però con l'aggiunta del sensore per il rilevamento degli ostacoli questo sensore che si dovrebbe muovere a destra ea sinistra per andare comunque a visionare un angolo di 170 gradi quindi avremo 170 gradi coperti da questo sensore lui dovrebbe iniziare a vedere l'ostacolo a 20 metri di distanza e quando vede l'ostacolo non so bene a che distanza non ci permetterà più di continuare andare avanti cioè di andare verso l'ostacolo quindi potremmo andare a destra a sinistra indietro ma non potremo più ovviamente continuare questo appunto perché lui è un sensore di rilevamento degli ostacoli è un'altra cosa che bisogna tenere in considerazione che per l'attivazione di questo sensore bisognerà avere il drone in modalità lenta se metteremo la velocità quella più veloce a quel punto lui verrà disattivato e non funzionerà perché con questo drone abbiamo due tipi di velocità quella normale e quella veloce quindi in base a necessità che abbiamo decideremo quale utilizzare sapendo che lui si disattiverà nel caso usassimo quella veloce quindi ragazzi prepariamo il drone per il decollo e vediamo come si comporta questo primo sensore di arrivamento degli ostacoli low cost perché è veramente il primo in assoluto nel range di prezzo di 160 euro nessun altro drone ha ancora avuto un sensore di arrivamento degli ostacoli ad un prezzo del genere quindi ragazzi iniziamo la configurazione iniziale allora un'altra cosa che è cambiata rispetto alla 906 pro 2 e drone che ho già recensito vi lascio qua sopra nelle schede se volete andare a guardare recensione perché comunque oggi non proveremo tutte le cose del drone perché tanto sono le stesse che abbiamo già visto nella recensione del 906 pro 2 quindi vi lascio qua sopra il video se volete dargli un'occhiata per vedere com'è il drone per il comparto volo video e via dicendo mentre oggi guarderemo appunto il sensore e il radiocomando sì perché in questa versione max è stato aggiunto il sensore ma è cambiato anche completamente il radiocomando adesso come radiocomando con un'ergonomia diversa con il telefono che viene posizionato qua sopra abbiamo queste due gambette per tenere in mano meglio il radiocomando e poi abbiamo un display centrale molto più ampio mentre prima avevamo un display piccolino qua in basso adesso abbiamo questo display molto molto ampio che ci dà anche delle informazioni in più e poi adesso è possibile utilizzare l'applicazione che si chiama zllrc scaricabile sia per ios che per android che ci permette di utilizzare questo drone mentre prima usavamo l'hfan plus che però è la stessa identica applicazione solo che adesso è marchiata zllrc cioè il marchio che produce questo drone quindi l'applicazione è rimasta la stessa solo che prima essendo un'applicazione un po generica che era adattata a tanti droni adesso ne hanno fatto una versione identica ma marchiata con il loro nome però è rimasta tale quale allora per prima cosa andiamo accendere il radiocomando con l'interruttore qua laterale ok vedete che già il display è molto più bello della versione precedente adesso non so se riuscite a vederlo dalla telecamera che c'è un sacco di riflessi comunque c'è un display molto più grande che ci dà un po di informazioni abbiamo qua la modalità di volo cioè quella gps senza gps la velocità vedete love cioè la velocità quella lenta dopo c'è la velocità quella più veloce appunto che però disattiva il sensore qua zero che il numero di satelliti che in questo momento non abbiamo gps on vuol dire che abbiamo gps attivo se dovessimo schiacciare qua lo disattiviamo ci permette di volare anche in zone senza gps perché altrimenti lui finché non aggancia i satelliti non ci darà il permesso di decollare mentre se disattiviamo il gps potremmo volare lo stesso solo con l'optical flow cioè la piccola telecamerina che c'è qua sotto però ovviamente non avremo tutte le funzionalità di sicurezza che abbiamo con il gps cioè il ritorno automatico il circle mode cioè varie funzioni che non sono attivate se non sia il gps disponibile però se siamo in un posto in cui gps non prendo siamo al coperto dentro un capannone non so in qualsiasi posto in casa se vogliamo solo provare a farlo decollare anche se in casa magari anche no bisogna disattivare gps per poter decollare comunque io vi dico sempre volate se avete il gps altrimenti magari evitate se potete poi abbiamo la distanza l'altezza qua la carica da batteria del drone la carica batteria del radiocomando e poi abbiamo queste due barre graduate che vanno ad accendersi e spegnersi vedete in base a come si muovono i giochi che più una cosa estetica che altro perché si è vero capiamo quanto gas stiamo dando ma non è che serva molto è più una cosa estetica secondo me e poi altre voci che appaiono quando andiamo ad attivare cioè la fotocamera la macchina fotografica in base alla funzione che andiamo a attivare apparirà qua sopra nel display quindi questo nuovo radiocomando che in più rispetto alla versione precedente alle batterie ricaricabili incluse mentre nell'altra versione del 906 produe dovevamo inserire noi delle batterie stilo quindi bisogna sempre accendere prima radiocomando questo lo si fa sempre con questi droni ma in questo caso bisogna farlo obbligatoriamente perché altrimenti i due dispositivi non si abbinano se accendete prima il drone poi radiocomando i due dispositivi non si combinano quindi uno non vede l'altro quindi ha acceso prima il radiocomando e dopo di che andiamo ad accendere il drone premendo qua dietro il pulsante di accensione vedete i led che salgono ok avete sentito il bip infatti vedete che adesso ho la batteria disponibile del drone quindi i due dispositivi in questo momento si vedono e stanno comunicando quindi a questo punto dobbiamo andare ad inserire il smartphone quindi entriamo in impostazioni entriamo nelle rete wifi vedete la già agganciata quindi a questo punto l'applicazione comunica con il drone non dobbiamo fare altro che andare ad aprirla ed eccola qua z lrc quindi andiamo a inserire lo smartphone all'interno del controller la posizione davvero comoda questa qua sopra inclinata direi che mi piace davvero tanto a questo punto dobbiamo andare a fare preparare il drone al volo preparare to fly la calibrazione quindi ci chiederà due calibrazioni quella dell'imu e quella della bussola qua dell'imu dovete farla a casa perché comunque meglio farla sulla superficie piana bella piana quindi mettete il drone la superficie piana fate calibrazione lampeggiano i led e a quel punto la calibrazione del dimu è fatta mentre qua della bussola è meglio farla qua all'aperto dove non ci sono interferenze geomagnetiche e se riesce a fare una calibrazione più precisa quindi a questo punto facciamo calibrazione che è quella che vi ho detto di fare a casa però giusto per farvi vedere perché se io avessi fatto next avrei saltato la prima calibrazione a questo punto possiamo fare la calibrazione della bussola quindi facciamo calibrazione ci dice di far ruotare il drone in questa maniera perfetto adesso lo faremo ruotare in questa maniera perfetto calibrazione avvenuta con successo questo è quello che va fatto soprattutto il primo utilizzo cioè quando lo tirate fuori dalla scatola qua possiamo scegliere se vogliamo sd vedete o hd questo è il ritorno video quindi ritorno video sarà in hd un sd però ovviamente anche questo andrà ad influire sulla sul range di distanza del ritorno video perché il radiocomando si ha un range di un chilometro e mezzo ma ritorno video viene dato per 800 metri però se lo mettiamo in sd che poi comunque non saranno 800 metri però se lo mettiamo in hd diminuisce sicuramente perché comunque l'hd è una qualità maggiore ma sicuramente perderemo prima il segnale però poi nella registrazione che abbiamo nella nel drone nella sd sarà sempre nella massima risoluzione c'è un 2,7 k è perché questo drone la massima risoluzione video a 2,7 k quindi lsd avremo 2,7 k mentre nella registrazione dello smartphone quindi quello che registrerà lo smartphone sarà o in sd o in hd in base a quello che abbiamo scelto quindi il piccolo video che avremo nello smartphone avrà quella risoluzione mentre nel drone avremo sempre e solo la 2,7 k quindi detto tutto questo i satelliti sono diventati 11 infatti passato in mod 2 quindi mod 2 vuol dire che ci dà il permesso di decollare perché abbiamo tutti i satelliti disponibili anche se oggi non è una giornata bellissima ci sono un sacco di nuve però tanto oggi dovremmo provare il sensore più che altro poi vi lascio anche ovviamente il video per dare un'idea della qualità video di questo drone anche se come vi ho detto inizio video se volete potete andare a guardare la recensione del pro 2 che comunque è identico e a questo punto ragazzi dai diciamo che possiamo anche decollare quindi possiamo decidere se decollare tirando i due stick verso l'interno vedete che si è acceso quindi adesso basta dare gas e lui decolla guardate il sensorino che inizia a girare wow tanta roba guardate il piccolo sensore come gira spettacolo è aspettate che scendo un po questo drone ha una stabilità in overing davvero ottimo l'ho già detto anche nel pro 2 quando l'ho recensito guardate che hovering secondo me davvero ottimo per un drone low cost e guardate il sensore che continua a girare fantastico fantastico davvero incredibile bisogna vedere però come funziona comunque lui con questo movimento riesce a coprire 170 gradi di visuale perfetto ho fatto partire anche la registrazione video così avete anche la qualità video di questo drone in su quello che viene registrato sulla micro sd e adesso proviamo questi sensori anti collisione quindi ci alziamo ok sta andando vediamo ok ha visto quella pianta la quindi si è fermato perché ha visto quella pianta la adesso mi giro da questa parte vediamo ok sta andando vediamo se vede le piante là in fondo vediamo se le vede e si avete visto ha visto le piante si è fermato fa anche il bip bip allora proviamo andare da questa parte adesso ci sono quelle piante quindi si ferma ok andiamo da questa parte la velocità massima che può avere con il sensore ha visto quelle piante le in fondo che secondo me sono anche di più di 20 metri e allora mi giro da questa parte dove in teoria non dovrebbe vedere niente però continuo a vedere mi sono alzato di quota vediamo mi sto allontanando quindi sta andando bene adesso giro torno indietro ci sono le piante vediamo se si ferma lo vedete la vediamo se vede le piante si guardate che si è fermato io sto dando tutto gas e lui è fermo e io sto dando tutto gas e quindi mi giro da questa parte vediamo continua a vedere oggetti perfetto ragazzi funzionano è forse un po troppo nel senso che secondo me tende andare un po in crisi con la luce entrano in funzione alla distanza davvero elevata perché guardate adesso le piante dove sono e lui le vede comunque salgo così non dovrebbe vedere più niente vediamo infatti va ok a quell'altezza va perché non vede niente prova a scendere vediamo quando venice a vedere le piante guardate vediamo sto scendendo verso la pianta ok vediamo se la vede è tipo quella non la vede però perché quella non la vede allora quella pianta non l'ha vista ok se gli vado contro però ok adesso vengo indietro facciamo la prova verso quelle piante ok così stesso sto venendo all'indietro quindi non c'è il sensore che ci va ad ostacolare nel nostro movimento quindi a questo punto vedete che ci sono quelle piante la vi vado incontro e vediamo quando si ferma ecco guardate leva in avanti e il drone è fermo allora andiamo verso quelle piante la vediamo ok ha già visto inizia a suonare però sta andando avanti lo stesso vediamo e a quel punto sarebbe andato a sbattere se non mi fossi fermato però sto giro quindi in questo caso non ha visto le piante prova a girarmi un po così a vedere se è una questione di luce tengo avanti no ancora non le ha viste quindi mi allontano ma il sensore sta funzionando ancora vediamolo se continua a girare aspettate che vengo qua che quindi adesso sta vedendo che cosa riproviamo adesso non va avanti perché vede quelle piante perché comunque lui girando le vede però se gli vado frontale ok adesso la rilevate mi giro di qui ok infatti vedete leva avanti non va mentre prima avete visto che comunque aveva continuato quindi non è impeccabile non è impeccabile sia nel suonare quando gli oggetti sono molto lontano sia nel nel essere impeccabile che ogni tanto continua anche se ci sono degli ostacoli e quindi adesso sta suonando comunque ci avvisa che c'è l'ostacolo anche se sta andando avanti però ci sta avvisando e adesso è fermo proviamo a metterlo di fronte a me e per fare la prova vediamo è allora il drone qua davanti a me ok anche se tengo avanti tutto vedete non arriva è comunque il sensore continua a girare lampeggia di rosso vedete il sensorino c'è un led rosso che lampeggia ogni tanto non sempre il radiocomando suona e lui non viene in avanti e quindi a me mi ha rilevato benissimo adesso riproviamo verso le piante quindi andiamo verso con le piante e vediamo ok si è fermato non continua e sta iniziando a suonare comunque ragazzi non è male perché comunque se pensiamo che i sensori anti collisione e li ha solo dj ai praticamente e autelivo o skydio cioè droni che costano davvero tanti soldi non è che possiamo pretendere che ci sia sopra un sensore anti collisione che non sbaglia un colpo quindi direi che dal punto di vista della sicurezza è promosso comunque perché comunque fanno il loro dovere non lo fanno in maniera impeccabile nel senso che ogni tanto sbagliano nelle rilevare gli oggetti che magari sono lontanissimi forse dovuti alla luce o meno e qualche altra volta non vedono l'oggetto e gli vanno incontro comunque però devo dire che nel complesso per essere una cosa lo costa e per essere un dispositivo che ruota a destra e a sinistra non è per niente per niente male adesso facciamo la prova verso quella pianta mi sono abbassato e vedete che già così suona si è rifermato perché vede quella pianta la davanti a lui adesso se tengo avanti continua vedete tengo avanti si è rifermato vediamo e si comunque funziona perché comunque l'avviso ce lo danno dopo se teniamo la leva riparte per un po poi si riferma vediamo vedete comunque funziona perché non si può dire che non funzionano e devo dire anche in maniera decente per essere appunto low cost rifacciamo la prova Sara ti metti lì che ti faccio la prova e dire se il drone ti vede vediamo se vede mia figlia che è piccolina gli vado incontro e vedete che ho la leva in avanti poi riparte perché comunque quando il sensore gira un po riparte però ragazzi guardate vedete che continua a suonare e funziona davvero bene allora per un attimo il drone va avanti se continuiamo a tenere la leva in avanti comunque il sensore girando a un certo punto non inquadra più l'oggetto quindi per un attimo avanti poi nel ritornare indietro rileva ancora l'oggetto e si riblocca e comunque lui ci avvisa perché già al primo bb ce ne diamo conto che stiamo andando a sbattere poi se il sensore gira e tenendo in avanti lui avanti ancora un po ma in quel caso siamo noi che sbagliamo perché già al primo bb dovremmo comunque prendere considerazione il fatto di andare a destra o sinistra o tornare indietro e non continuare quindi questo va valutato nel concetto di questa tipologia di sensore che ruotando ogni tanto perde l'angolo perché 170 gradi li ha nella sua rotazione quindi a un certo punto ruotando va a perdere l'oggetto che ha di fronte poi rigirando lo riprende quindi riblocca il drone però l'avviso ce lo dà immediatamente quindi adesso li atterriamo un attimo faccio venire qua il drone ovviamente devo farlo venire con il dietro del drone verso di me quindi perché sono vedendomi non mi fa venire ad atterrare sul landing perfetto veniamo indietro quindi atterriamo sul landing perfetto atterraggio riuscito in maniera impeccabile perché comunque questo drone ha una buona buona stabilità allora ragazzi cosa dire di questo drone e del suo sensore anti collisione che secondo me è davvero interessante perché comunque ha un comportamento più che buono perché lo valutiamo sempre nel 160 euro che comunque questo drone con il sensore costa 160 euro quindi non è che mettendo di questo sensore il prezzo sia lievitato è rimasto lo stesso prezzo del pro 2 ma con un accessorio in più il radiocomando sicuramente migliorato dal punto di vista ergonomico del display delle informazioni che abbiamo all'interno del display della batteria che adesso è ricaricabile mentre prima non l'avevamo ricaricabile quindi tutto questo sicuramente è un plus in più mantenendo bene o male lo stesso prezzo e i sensori comunque ragazzi ci danno davvero sicurezza e a volte suonano senza motivo o meglio non so cosa vedano perché comunque non avevo degli oggetti così vicini però loro rilevavano lo stesso secondo me erano lontani però magari è la luce che gli crea problemi perché comunque la luce crea problemi anche al sensore di droni molto più costosi ovviamente oggi non c'è una luce incredibile però magari questa luce un po strana adatta dalle nuvole quel sole che filtra magari da qualche problema però nel complesso ragazzi sicuramente vi fa volare più in sicurezza perché comunque avete visto che anche ruotando il sensorino a destra e a sinistra lui ruotando va a occupare una visuale di 170 gradi che ovviamente ci danno dei punti morti ogni tanto perché quando lui gira da questa parte di qua abbiamo il punto morto però ci ha già avvisato in precedenza che c'era un ostacolo ovviamente magari ci fa continuare quel metro se continuiamo a tenere in su lo stick però stiamo sbagliando perché lo stick e dovremmo mollarlo e ritornare indietro o spostarci perché comunque lui ci aveva avvisato quindi ragazzi secondo me questo drone è un drone più che buono ve l'ho già portato nella recensione la qualità video non è male per i suoi 160 euro ha un ghimba stabilizzato su tre assi meccanicamente quindi non è male non è a livello dell'f11 4k pro dove secondo me la qualità video è superiore sia di qualità che di stabilizzazione però qua ci abbiamo in più questo sensore anticollisione quindi magari rinunciamo un po alla qualità video ma abbiamo un sensore che ci fa volare in sicurezza e senza rischiare di andare a sbattere questi droni che comunque non sono droni costosi ma se si rompono li dobbiamo buttare quindi ragazzi se questo video in cui ho portato sul canale questa prova dell'sg 906 max il primo drone low cost con un sensore anticollisione che ha una visuale di 170 gradi ruotando a destra a sinistra vi è piaciuta lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tanti novità curiosità anteprime spoiler di quello che porterò sul canale tante stampe 3d quindi seguitemi su instagram iscrivetevi se vi va al mio canale 3gomoferte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial una novità ciao